benvenuti in questa guida top 7 comodini camera da letto di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo un glo comodini camera da questi comodini camera da letto sono una scelta eccellente per aggiungere stile e funzionalità alla tua camera da letto sono realizzati in legno di alta qualità con un design moderno ed elegante sono dotati di un cassetto e di un ripiano offrendo spazio sufficiente per riporre oggetti come libri punteggio 78 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo vidaxel 2x comodini moderni e leganti questi comodini moderni e robusti sono un'ottima aggiunta alla camera da letto sono realizzati in multistrato di alta qualità hanno due cassetti portaoggetti e un armadietto con cassettiera versatile sono eleganti e pratici perfetti per riporre tutti i tuoi oggetti punteggio 84 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo gli high tech due comodini camera da questi comodini high tech sono una scelta eccellente per la camera da letto sono di stile shabby chic con un cassetto e laterale alto sono realizzati in legno di alta qualità e hanno una finitura bianca che li rende eleganti e moderni punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare eugad set di due comodino questi comodini sono fantastici sono solidi ben fatti e hanno un design moderno i due scomparti a giorno e il cassetto offrono molto spazio di archiviazione sono perfetti per la camera da letto il soggiorno o qualsiasi altra stanza il trucciolato di rover è di buona qualità e da un tocco di eleganza punteggio 81 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo vasaglie tavolino tavolino rotondo con questo tavolino vasaglie è una scelta eccellente per la camera da letto il design moderno e l'effetto legno nero con turchese scuro lo rendono un pezzo di arredamento elegante la superficie spaziosa e il cestino in tessuto sono molto pratici un ottimo acquisto punteggio 93 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo iatec comodino camera da letto iatec è un ottimo prodotto il comodino è ben costruito con tre cassetti spaziosi e moderni la finitura bianca lo rende adatto a qualsiasi stanza da letto è abbastanza grande da contenere tutti i tuoi oggetti essenziali ma non troppo ingombrante punteggio 93 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica stella trading pepe in grafite semplice stella trading pepe in grafite semplice comodino con un cassetto da abbinare a qualsiasi camera da letto engineer the wood 39 x 41 x 28 cm è un comodino di qualità eccellente il design semplice e moderno si abbina perfettamente a qualsiasi camera da letto punteggio 95 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grafite semplice grafite semplice